La visita dell'assessore Veri al distretto sanitario di Villa Rosa ha aperto anche nuove prospettive dal punto di vista della funzionalità e della percezione della sanità sul territorio di Martinsa. Sì, da diversi mesi stiamo lavorando per cercare di dare alla struttura il nostro distretto sanitario più opportunità e quindi attraverso un'implementazione dei servizi e dare maggiori opportunità appunto ai nostri cittadini. Quindi abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita istituzionale dell'assessore in presenza anche dei consiglieri regionali di Gian Vittorio e Emiliano Di Matteo che in qualche maniera unitamente al dirigente della ASL abbiamo parlato su come poter riempire alcuni spazi che si renderanno disponibili a breve. È stato un bel incontro nel corso del quale abbiamo avuto rassicurazioni su un percorso che si porterà avanti già nei prossimi giorni che vedrà maggiori servizi da poter impiantare appunto nella struttura. Servizi che consentiranno sia la nostra città che poi d'estate percepisce una necessità ancora maggiore di servizi visto il flusso turistico di poter appunto dare delle risposte sanitarie a diverse esigenze. E anche dal punto di vista della mobilità passiva pensiamo che investire su quella struttura possa dare veramente delle risposte importanti anche alla regione Abruzzo. E' coipotizzabile un servizio specifico che andrà inserito in quella struttura? Beh in questo momento forse è presto. Abbiamo ragionato su diverse situazioni però come abbiamo concordato con l'assessore adesso dobbiamo in queste settimane lavorare bene e vedere gli spazi e vedere anche con servizi rispetto ai tanti servizi che ci sono e che possono essere emessi. E credo insomma nelle prossime settimane di poter avere un quadro più chiaro. Ripeto saranno sicuramente servizi aggiuntivi rispetto alle tante specializzazioni che ci sono che rappresenteranno e trasformeranno il nostro distretto in veramente un presidio importante non solo per Martinsicuro ma per tutta la provincia di Terro soprattutto. Grazie a tutti.